Sono mezzi che hanno una grande tecnologia e quindi delle grandissime capacità di controllo del territorio. Ovviamente qui nella zona di Pescara dobbiamo rispettare le normative ENAC perché ci troviamo in una zona rossa aeroportuale. Diciamo che comunque riusciamo a controllare una zona da qui, da Piazza Primo Maggio, fino a arrivare praticamente al porto di Pescara e fino a arrivare dall'altra parte quasi a confine con Monti Silvano, un po' prima. Come è nata questa iniziativa? La nostra associazione è un'associazione culturale internazionale e nell'ambito di questa associazione abbiamo introdotto la didattica STEM, Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica e da qui è nato tutto il discorso praticamente di servizio dei droni per la comunità. Servizio che andrà avanti anche nei prossimi giorni? Noi siamo a disposizione in questo periodo di emergenza del coronavirus, a disposizione delle forze di polizia del comune di Pescara e del sindaco per dare il nostro supporto come associazione. Maggiore, state facendo questi controlli per mezzo dei droni qui sulla riviera di Pescara, uno strumento ulteriore per il controllo del territorio proprio in questo periodo di emergenza? Certamente ci permette di controllare in più grande gettata anche la presenza di persone per le quali poi andiamo ad accertare la motivazione dello spostamento e se questo spostamento è consentito dalla normativa attualmente in vigore. Siete riusciti questa mattina ad intercettare tramite il drone qualche persona che non poteva transitare nella zona della riviera? Allora abbiamo individuato un soggetto che aveva con sé un cane e poi è stata mandata la segnalazione ai motociclisti che hanno raggiunto il soggetto, lo hanno generalizzato, hanno chiesto la motivazione dello spostamento e non era certamente plausibile con quello che è l'ordinanza sindacale vigente attualmente e pertanto il soggetto è stato sanzionato. Questo è uno strumento per voi molto utile perché vi permette anche stando fermi in una particolare zona di poter arrivare a diversi chilometri di distanza? Certamente permette anche una gestione migliore e più razionale delle risorse umane anche in un territorio vasto come la città di Pescara.